Una quinta vittoria consecutiva per l'Aquila Rugby Club che si conferma nel girone 4 di Serie A e conquista altri 5 punti con l'8 pagine Benevento tra le mura amiche. Termina così 36 a 15 di fronte a circa 400 spettatori alfattori in una giornata contraddistinta dalla paura al risveglio per la scossa di terremoto sentita distintamente anche nel capoluogo. Sebbene l'Aquila si porti avanti dopo soli tre giri di orologio la vittoria è tutt'altro che una passeggiata per i Neroverdi. Il Benevento infatti schiaccia il 15 di Troiani e il Rotiglio nella propria metà campo. Al quarto d'ora infatti arrivano i primi punti degli ospiti. La partita nel primo tempo è estremamente equilibrata e vede numerosi cambi di fronte così come dimostrano le due mete, una per parte tra il 23esimo e il 27esimo ad opera di Carlo Cerasoli e Alessio Altieri. Sul finale di tempo è Francesco Giorgini sull'ala che segna la terza marcatura neroverde. Si va negli spogliatoi con gli Aquilani sul break per 15 a 8. Nella ripresa la storia cambia e l'Aquila apre le ali. La difesa del Benevento si dimostra stanca e nonostante soprattutto all'inizio la partita risulti nervosa e piuttosto frammentata, i neroverdi mostrano la propria superiorità in mischia e nel gioco alla mano. A metà tempo arriva così la meta del bonus per i padroni di casa da parte ancora della terza linea Cerasoli, nominato a fine gara Man of the Match. Seguono in sei minuti altre due mete dell'Aquila con Nicola Rettagliata e con il neo entrato Francesco Rossi, che chiudono definitivamente la partita. C'è tempo all'ultimo minuto per la seconda marcatura del Benevento. Termina così per 36 a 15 di fronte agli applausi del pubblico. I ragazzi stanno rispondendo al lavoro fatto dai tecnici e ci stanno dando questa soddisfazione di essere i primi imbattuti in questo girone che inizialmente rimane anche un po' difficile, però loro sono stati bravi perché l'hanno corto con la giusta concentrazione. Il momento più bello è stato quando la squadra ha reagito e quindi più vai avanti domenica per domenica, più il gruppo si compatta, più nasce la squadra e più c'è voglia di giocare al rugby. Quindi quella reazione da squadra mi è piaciuta. C'è molto da lavorare ma va bene così, siamo sulla strada giusta.